Da che doveva essere una parata per dichiarare la vittoria e quindi anche la pace? Quella del 9 maggio sarà forse la giornata più preoccupante da quando è iniziata la guerra. Già, perché Putin potrebbe dichiarare la guerra totale a Kiev. Lo ha riportato ieri The Independent citando indiscrezioni di funzionari russi e occidentali. Proprio così, guerra totale. Ma cosa significa? Che non avendo Putin raggiunto i risultati sperati, non si parlerà più di operazione speciale, ma di una vera e propria guerra. Con tutte le armi possibili e immaginabili. Questo porterà a un cambio nell'evoluzione della guerra, degli scenari e soprattutto dei soggetti coinvolti. Ma facciamo un passo indietro. Putin non è mai stato uno stinco di santo, ma quello che vi dirò vi potrà apparire incredibile. Putin non è un estremista. Oddio, chiamarlo moderato mi sembra assurdo. Ma sappiate che l'esercito russo è formato da falchi, da persone molto più guerrafondaie di Putin e addirittura più pericolose. Ragion per cui Friedman espresse qualche seria perplessità nella strategia alleata rivolta a un cambio di regime al Cremlino. Chi ci dice, ha scritto, che il successore di Putin non sia peggiore? Ma torniamo a noi. Ebbene, gli alti ufficiali dell'esercito russo alla ricerca di una rivincita per i fallimenti militari, anche per fare bella figura, starebbero spingendo il presidente russo ad annunciare il cambiamento di strategia durante la parata annuale del giorno della vittoria, il 9 maggio. L'annuncio verrebbe effettuato a Mosca, nella Piazza Rossa, nell'anniversario della vittoria contro i nazifascisti, il 9 maggio 1945. Usando però la parola guerra totale, il Cremlino potrebbe attivare la legge marziale, coinvolgere i suoi alleati in un aiuto militare e proclamare la mobilitazione di massa. Non si tratterebbe, secondo vari analisti, di una comunicazione dettata soltanto dalla propaganda, ma di una vera e propria riconversione dell'economia del paese che diverrebbe un'economia di guerra, un cambio di passo che potrebbe essere davvero inquietante. Ed a rendere ancora più inquietante questo aspetto sono due fatti estremamente gravi accaduti a Vantieri. Il primo, nella serata di Vantieri, un aereo da ricognizione russo ha violato lo spazio aereo svedese. A riferirlo è stato il ministro della difesa di Stoccolma. Lo sconfinamento è avvenuto guarda caso, proprio mentre la Svezia sta valutando, ormai con enorme concretezza, la possibilità di candidarsi a entrare nella NATO alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina. Il ministro della difesa ha detto ovviamente che è totalmente inaccettabile violare lo spazio aereo svedese. La sovranità svedese deve essere rispettata, sempre. E su questo non ci piove. Con i tempi che corrono non può parlarsi di un errore, ma di una vera e propria provocazione. E ricordiamo che all'inizio di marzo, in un episodio simile, quattro aerei da guerra russi avevano violato lo spazio aereo svedese sul Mar Baltico. Il secondo episodio è forse ancora peggiore. E si è consumato sul primo canale della TV russa, che ha mostrato una simulazione di tre bombe atomiche. Una raggelante simulazione di come potrebbe svilupparsi un attacco nucleare russo nei confronti di alcuni capitali europei. Londra, Berlino, Parigi. Secondo alcuni ospiti, queste città verrebbero polverizzate entro 200 secondi dal lancio dei missili. La televisione era consapevole di quella sortita degli ospiti, perché aveva già pronte le immagini per dimostrare la verità di queste affermazioni. E allora, cosa succederà il 9 maggio? Potremmo definire il 9 maggio quindi come il D-Day, il giorno del giudizio. Sapremo cosa dirà Putin in quella che per la Russia è una storica ricorrenza. E il messaggio non sarà solo alla Russia, ma a tutto il mondo. Il Ministero della Difesa ucraino non esclude uno scenario in cui Putin potrebbe annunciare una mobilitazione generale. Mi ha colpito un'intervista apparsa sul Corriere proprio stamattina a Jeffrey Sachs, uno degli economisti più famosi al mondo e già consigliere sia di Gorbachev che di Yeltsin. È oggi direttore della Heart Institute della Columbia University. Le sue parole sono destinate a far discutere, a partire da questa. Il grande errore degli americani è credere che la Nato sconfiggerà la Russia. Tipica arroganza e miopia americana. È difficile capire cosa significhi sconfiggere la Russia, dato che Vladimir Putin controlla migliaia di testate nucleari. I politici americani hanno un desiderio di morte. Sarebbe molto meglio fare la pace che distruggere l'Ucraina in nome della sconfitta di Putin. Accanto alle sanzioni abbiamo bisogno di una via diplomatica, ha detto l'economista. Negoziare la pace è possibile sulla base dell'indipendenza dell'Ucraina ed escludendo che aderisca alla Nato. Ma gli Stati Uniti sono più riluttanti della Russia a una pace negoziata. La Russia vuole un'Ucraina neutrale e l'accesso ai suoi mercati e alle sue risorse? Alcuni di questi obiettivi sono inaccettabili, lo sappiamo, ma sono comunque chiari in vista di un negoziato. Gli Stati Uniti e l'Ucraina invece non hanno mai dichiarato i loro termini per trattare. Gli Stati Uniti vogliono un'Ucraina nel campo euroamericano, in termini militari, politici ed economici. Questo almeno dice l'economista. E qui si trova la ragione principale di questa guerra. Gli Stati Uniti non hanno mai mostrato un segno di compromesso, né prima che la guerra scoppiasse, né dopo. Quando Zelensky ha lanciato l'idea della neutralità, l'amministrazione americana ha mantenuto un silenzio di tomba, dice ancora nell'intervista. Ora stanno convincendo gli ucraini che possono realmente sconfiggere Putin e loro ci credono. Ma qui è la cosa più paradossale. Appunto, anche solo l'idea di sconfiggere un paese con così tante armi atomiche è una follia. Per salvare l'Ucraina dobbiamo porre fine alla guerra e per porre fine alla guerra abbiamo bisogno di un compromesso in cui la Russia si ritira e la Nato non si allarga. Non è difficile. Eppure gli Stati Uniti non accennano neanche all'idea perché sono contrari. Vogliono che l'Ucraina combatta per proteggere le prerogative della Nato. Già questo è un disastro. Ma senza una soluzione ragionevole e razionale ci aspetteranno pericoli molto più gravi. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.